Ha attracato ieri al porto di Brindisi, al molo di Santa Pollinare, la nave norvegese Sienpilot con a bordo 653 migranti africani tratti in salvo a largo della costa libica. I migranti erano stati tratti in salvo venerdì nell'ambito dell'operazione Frontex. Dai primi conteggi effettuati dalle autorità ci sono a bordo 81 donne di cui due incinte, 65 minori quasi tutti non accompagnati, 507 uomini e le salme di due donne. I migranti sono stati presi in cura da volontari, protezione civile e personale del 118 e della Croce Rossa. Sul posto anche i militari della Capitaneria di Porto, poliziotti dell'Ufficio Immigrazione della Questura e agenti che indagano per individuare gli scafisti. Un sospettato è stato condotto in Questura. Fra i migranti ci sarebbero 10 casi sospetti di scabbia, mentre 5 persone hanno riportato ferite non gravi soprattutto alle gambe.